Bentornati alla foresta nataliziosi con me il terzino del Bolzano Dejan Turkovic ciao Dejan ciao e grazie dell'invito allora come prima parte di stagione straordinaria per voi tutte le partite vinte siete lanciatissimi sì diciamo che sta andando bene abbiamo giocato in coppa all'inizio dove abbiamo fatto non dico un bel risultato perché abbiamo perso però abbiamo giocato ce la siamo giocati ma avendo due partite fuori casa in Islanda con avversari di un livello è andata abbastanza bene poi ci siamo un po' concentrati al campionato sta andando bene diciamo che contro le forti abbiamo giocato meglio che contro le deboli però abbiamo sempre vinto quello che è importante ecco mi allaccio a quello che appena detto per una squadra come voi che vincete tanto e cosa è difficile concentrarsi per partita contro partita magari quando si gioca contro un volteno un mezzo corona un malo senza sottovalutare nessuno però sì non è sempre uguale non è uguale andare a Bressanone e giocarci il derby a Bressanone dove sai che se non dai il massimo dal primo minuto fai fatica dopo oppure non lo so giocando in casa contro come dici squadre di bassa classifica magari non parti bene perché sai che puoi sempre recuperare sì adesso si avvicinano le feste torni a casa rimani qui feste si avvicinano però giochiamo il 23 poi il 27 abbiamo già la nazionale che andiamo in Grecia tre giorni per Natale sì ho poche feste ah non torni neanche a casa? sì sì per Natale torno un po' con i miei però neanche il tempo per festeggiare un po' con i amici già che ci sono altri impegni sempre per la Palamano a proposito di nazionale come hai vissuto il cambiamento dello staff tecnico? bene bene devo dire che mi trovo molto bene volevo vedere come sarà col nuovo allenatore di qua di là perché non mi ha mai allenato però ho sempre sentito parlare bene di lui io andavo bene molto bene anche con l'ex con Radojkovic non è che c'è così tanto di cambiamento nel sistema del gioco di allenamenti però ognuno ha un suo stile di gioco che mi trovo bene e come li vedi questi impegni di gennaio come vedi le vostre possibilità? a gennaio sarà dura ci abbiamo la fortuna di giocare in casa sì sinceramente è così no giochiamo contro tre squadre di quali due ne sappiamo cioè parla anche un po' la storia la Romania non è abbiamo già giocato tante volte contro di loro è una squadra forte fortissima anzi l'Ucraina che nessuno parla non è niente di sono lì contro come la Romania le isole Far invece sinceramente non le conosco neanche io lo so sì però so che hanno fatto un bel risultato a livello giovanile under 20 significa che la Palamano si gioca anche lì no? è da vedere giochiamo in casa la fortuna è quella è la fortuna che non giochiamo andata a ritorno allora in una partita è sempre tutto aperto tutto possibile poi ci aspettiamo un bel pubblico e vediamo come andrà a finire tra le sto giochi due volte in casa perché si giocherà in Alto Adige quindi sì hanno detto che si gioca a Bolzano nel Palaresia ah ok quindi fossimo già da speriamo di che sia almeno come nella finale che abbiamo giocato sì che ci sia una bella risposta di pubblico del resto la Nazionale ce lo merita anche tutto questo sì con la Nazionale ovunque abbiamo giocato è sempre stato bello il pubblico è sempre stato numeroso è quello che mi aspetto anche qui a Bolzano cioè in Alto Adige in generale allora obiettivi per questa stagione oltre alla Nazionale e col Bolzano? obiettivi? beh speriamo di fare un bel risultato con la Nazionale per il resto non è che ci dobbiamo nascondere puntiamo a tutti gli obiettivi che sono rimasti cioè Coppa e... Chi temi di più soprattutto del girone sud? Fasano, Coversano? Chi è che... Coversano c'ha una bella squadra quest'anno veramente sono... non sono la sorpresa perché comunque tutti i giocatori di livello però penso che il Fasano se si rinforza anche a gennaio che si parla sicuramente il Fasano è la squadra da battere e invece stando al nostro girone per la corsa al secondo posto chi vedi favorito? Eh qui si è complicato un po' all'inizio non avrei mai detto che Trieste avrebbe fatto dei risultati così belli però adesso siccome si è complicato c'è anche il Cassano che sta facendo un bel campionato che sta prendendo punti alle favorite però alla fine penso che Merano e Pressano Merano e Pressano si giocheranno nel secondo posto penso Dejan, grazie per la chiacchierata e buona festa Salute E in Alto Adige ci piace farla semplice come Forst Premium la più easy delle nostre birre Forst, la birra dall'Alto Adige Altyazı M.K.